Al sindaco di Teramo Gianguido d'Alberto nonché presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci non è affatto piaciuta la bozza di riordino della rete ospedaliera per il territorio regionale presentata in Commissione Sanità in Regione. In particolare d'Alberto critica l'aspetto della sostenibilità economica finanziaria della bozza che se attuata penalizzerebbe soprattutto la provincia di Teramo visto che non prevede per Teramo le funzioni di secondo livello per la Stroke Unit e i politraumi. Ancora più inconcepibile poi per Dalberto è la mancata previsione per Teramo della terapia intensiva neonatale prevista in tutte le altre realtà provinciali. Ci ha portato a rappresentare assolutamente la necessità di superare la logica nella tutela del diritto alla salute nella nostra regione di un Abruzzo a due velocità. Non è sostenibile che ci sia uno squilibrio nella presenza di servizi importanti, specialistici dove il territorio Teramano rischia di essere fortemente penalizzato. Intanto noi chiediamo che a fianco alla rete ospedaliera sia aggiunto il piano della rete territoriale. Non si può ragionare di sanità e del rapporto tra sanità, comunità e territorio se non c'è una rete territoriale affiancata alla rete ospedaliera. Chiediamo che vengano rivisti, e questa è una richiesta al Governo, già fatta al Ministro Speranza, i criteri del decreto Lorenzin e alla Regione chiediamo se questa rete ospedaliera sia effettivamente sostenibile sul piano economico-finanziario. Come ricordava lei, sul territorio Teramano abbiamo forti penalizzazioni, intanto per l'assenza dell'unità di terapia intensiva neonatale, ed è paradossale che abbiamo tre unità sul territorio regionale, due a distanza di 10 km l'una dall'altra, e Teramo sia completamente sprovvista, così come è sprovvista delle funzioni di secondo livello per la Stroke Unit e per la rete politrama. Cioè quindi quei servizi sanitari, ospedalieri, relativi all'emergenza urgenza, che non possono essere appunto non considerati per la nostra città, che peraltro ha dei numeri, sul piano del nostro ospedale, dei numeri decisamente superiori rispetto a quelle di alta realtà. Quindi va riequilibrata subito, immediatamente, la rete ospedaliera, recuperando il terreno e i diritti della nostra comunità, del territorio Teramano, faremo su questo una battaglia, così come sull'abbattimento delle liste d'attesa. Lo abbiamo chiesto alla ASL, ovviamente è necessario che ci siano degli interventi che ci consentano appunto di ripristinare eguaglianza nella tutela del diritto alla salute della nostra regione.